Due vittorie consecutive e passa la paura. Per la salvezza matematica mancano quattro punti in casa futsal San Giovannese, sempre però che il percorso del Rosta sia di tre successi nelle ultime uscite. Sabato arriva al Città di Massa, in Piazza Palermo, altra squadra relativamente tranquilla e del resto è il calendario ad apparire in queste ultime giornate a poter fare la differenza. Tre partite, l'uniosa non possiamo nascondere, è che come calendario penso l'abbiamo favorevole rispetto alle nostre dirette concorrenti. Il calendario sì, è determinante ora come ora, però dobbiamo vedere anche le squadre che affrontiamo in che situazioni di classifica si trovano. Di certo, te l'ho detto, io penso che la nostra diretta concorrente ormai sia il Rosta e il Pisa e diciamo a calendario penso abbiamo leggermente migliore di loro. Però le ultime prestazioni hanno isolato nel bene e dalla qualità dell'avversario. Anche è vero che nell'ultima uscita avevamo la squadra al completo, ha levato l'infortunio di Cristo che eravamo tutti e sì, sì, hai detto benissimo. Le ultime due partite abbiamo tirato fuori due prestazioni superlative, di carattere e ci siamo meritati sei punti, specialmente a Pistoia dove ci hanno fatto la guerra purtroppo. Bianconeri, ospiti del prossimo turno, oggetto di complimenti. E' la squadra, la Reputo, la squadra con più attributi del campionato perché a differenza nostra quando abbiamo le partite con le squadre di nostro livello le abbiamo perse tutte, loro le hanno sempre portate in fondo e hanno sempre vinto. Quindi diciamo la Reputo è una delle squadre con più attributi.